un occhietto c'è già buongiorno buongiorno a tutte anch'io vado a cercare la diretta sul computer quante tutte di colpo benvenute sono le due e la diretta doveva essere alle due la gela prima hai vinto già allora e qualcuno ha già condiviso grazie fatine chi è che condivide l'anna ti ho mandato un messaggio anna allora avete la monica c'è tante aspettate che metto sul cellulare sul computer che vi vedo meglio sempre prontissima buongiorno buongiorno ambra come mai così in ritardo oggi sapete che io vedo a fianco dei vostri nomi c'è chi ha un cuore anzi sembra un diamante chi ha una i chi ha una manina che saluta chi ha tutto nuovo oggi è tutto nuovo anche questo orario che doveva esserci non doveva esserci io provavo a mettere adesso vi giro vi racconto bene 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 intanto oggi guardiamo questa cosa qui poi buon pomeriggio a tutte malgrado il tempo brutto magda mi trovi proprio d'accordo allora adesso vi racconto una cosa intanto che vi giro è aspettate vi giro buongiorno fatine è arrivata anche la marianna vabbè adesso non vi vedo più non vedo più i commenti quindi parliamo io e voi ho fatto l'evento lunedì non ci ho più pensato mi è venuto in mente che poteva esserci così un cambiamento rispetto all'orario non mi vedete sì rispetto all'orario del del nostro cambiamento d'orario no e poi naturalmente mi sono dimenticata oggi c'è una signora che mi scrive ma io non posso esserci vabbè una signora è lambra io non posso esserci perché alla diretta la fai alle 3 ma la farei sempre alle 3 no la diretta sarà sempre alle 2 allora ho detto va bene la mia impostazione ancora con l'ora che non so io non capisco niente di ste cose la metto all'una così le fatine vedono alle 2 all'una continua a arrivarmi la notifica preparati per il video in diretta preparate no non è adesso e fra un'ora poi mi ha messo la citazione e quindi vabbè io spero che a man anzi vi chiedo ancora se voi condividete questo video magari nuove fattine arrivano e dicono ma quella la prima scrive alle 3 poi la fa alle 2 sempre la solita però magari intanto qualcuno arriva allora prima di ogni diretta lo sapete è un po che non faccio più in tempo è un po che mi poi leggo è perché sono curiosissima di sapere che cosa mi scrivete magari qualcuno mi sta anche dicendo dai me l'hanno anche già detto e volevo scrivere una bella frase riguardante il natale poi ho pensato che quest'anno per me il natale sarà particolare ma tipo l'anno scorso due anni fa il natale era coi figli grandi cioè non c'è più arriva il babbo natale arriva il babbo natale e quindi c'è quel quel cambiamento quella fase in cui non è così importante e allora voglio augurare a tutte le fatine che mi seguono che sono un po in quella fase in cui in questo momento non sembra importante in cui questo momento ha perso un po la magia di ritrovare la magia se non per questioni materiali ma magari perché si hanno dei desideri di ritrovare la gioia di ritrovare un po di serenità di ritrovare di ricordare delle cose belle e come si fa a ricordare le cose belle come si fa a rivivere la magia del natale a vivere la magia del natale contando i giorni che mancano a natale quanti giorni mancano a natale io vorrei andare a leggere i commenti senza proprio lasciarvi ma io vi posso lasciare perché tanto questo quilt è dei pacchetti di natale quindi essenzialmente è anche carino come come quilt da farvi vedere vabbè la je è proprio partita per la tangente a 52 lo so che li conta allora è arrivata mi sa 51 a cui se la stanno giocando e dipende se 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 il natale comincia il 24 o se si calcola proprio il natale 25 50 giorni che offre di meno che offre di più va bene comunque una cinquantina di giorni sono già un po in ritardo 54 gli è allora sono già un po io non ho salutato nessuno delle fatine presenti ma vi saluto tutte assieme perché se no veramente oggi non avevo tanta voglia di cucirlo sono tra quattro giorni no ho cucito lunedì pomeriggio però così sapete quando si fanno altre cose ho messo a posto delle cose ho fatto e quindi mi piacerebbe stare tutta l'ora chiacchierare con voi ma voi cioè volete vedere i fatti e allora contiamo gli sti giorni che ci separano dal natale non cominciamo adesso a contarne ma cominciamo dal primo dicembre con il calendario dell'avvento che adesso mi muovo di nuovo cioè poi non mi non capite come ero come mi ero seduta però va bene allora ho pensato di utilizzare il pacchetto di charm e queste taschine questi pezzetti di stoffa ci servono per fare le taschine del nostro calendario dell'avvento che sarà non un calendario dell'avvento dove ci possiamo mettere dentro scatoloni di cose ma ci metteremo dentro i bigliettini per fare la caccia al tesoro aiutate magari dall'elfo e quindi questi che sono 42 ne useremo 24 i rimanenti li useremo per fare altre cose ricordatevi subito che quando ci sono delle collezioni che non sono formate da 40 o 42 pezzi 42 fantasie diverse nel pacchetto di charm c'è adesso voglio andare a beccarvelo subito eccolo qui aspettate eccolo qui no sveglissima proprio eccolo provato e infatti è quello che userò allora nel pacchetto di charm vedete che qualche fantasia si ripete questa per esempio si ripete e noi questa la useremo in un modo particolare quindi le signore che hanno già il charm me ne sono rimasti pochissimi se li volete mi raccomando messaggio subito perché veramente sono pochi le signore che vogliono avere questo charm e che seguiranno poi il mio la mia proposta del calendario dell'avvento ricordatevi che questo tessuto va messo da parte perché servirà per fare una cosa particolare tutte le altre a scelta adesso andremo subito a lavorare come volete distribuite un po con i colori un po che che si differenziano no con un po di armonia dei colori ma effettivamente quando utilizziamo una collezione il lavoro è già stato fatto quindi i colori sono già sistemati bene 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 ciao a tutte ciao a tutte ciao a tutte c'è qualche signora nuova bello perché lara fai le domande che tanto poi dopo in questa postazione ho fatto la nonna ho fatto la nonna infatti sono ancora un po tenera adesso poi divento subito cattiva mi passa subito la tenerezza però sono ancora tenera adesso allora una bambina splendida che è stata con me per due giorni e veramente splendida e io dicevo ciao bambola ciao bambola e lei rideva a parte allora che cosa ci serve per iniziare a lavorare il filo trasparente vi prego non lo tolgo ma vi faccio vedere non lo tolgo dalla macchina perché ci ho messo un'ora e mezza a infilarla e soprattutto la preoccupazione di oggi non tanto dorme non tanto strano dorme anche con te allora non tanto della diretta oggi la preoccupazione avevo quanto che dopo che ho finito di utilizzare questo filo trasparente devo togliere il filo di cotone normale e ci metterò otto ore e mezza a infilarlo quindi sarà una bellissima diretta dove voi ridete dove voi mi vedrete con gli occhiali perché se no non vedo lago cioè così così oggi giocheremo io odio il filo trasparente io più che odiarlo lo perdo io comincio faccio anzi vi giro faccio così così vedete di nuovo i tessuti vabbè ve lo racconto jelly roll layer cake che useremo che useremo anche per darvi lo spunto per utilizzare anche gli altri layer cake di altri di altre collezioni perché poi alla fine insomma lo sapete che la creatività basta farla partire poi se sposto la borsa evito di cadere basta farla partire poi veramente non si ferma più questi sono i grunge è una collezione che si chiama astol and bastol ed è di basic gray e quindi questi sono i grunge abbinabili guardate che meraviglia aspettate che ne prendiamo ma proprio pochi per farvi vedere guardate abbinabili a questa a questi a questa collezione guardate che meraviglia e quindi niente vi ho fatto vedere che che l'abbinamento c'è sta bene si vede è bello guardate allora questo verde scuro ma guardate che meraviglia che è questo verde scuro ha dentro anche un po di color cuore di stoffa andiamo la Elena lo ama amore odio per le nostre fatine allora abbiamo il piano di taglio generalmente vi dico sempre quando abbiamo il piano di taglio ma non ho la squadra ma adesso la trovo la trovo partiamo eh adesso questa è veramente la diretta abbiamo fatto dieci dodici minuti di chiacchiere pensare che io non parlavo mai e quando andiamo a tagliare io vi dico sempre non andate a fare questo lavoro di mettere in posizione il nostro charm perché poi perdete un mucchio di tempo e abbiamo la griglia della nostra squadra che ci fa già fare tutto il lavoro e quindi assolutamente non abbiamo nessun nessun vincolo con il la griglia del nostro piano di taglio bene mi rimangio tutto perché oggi la griglia del piano di taglio ci servirà accendo il ferro accendo il ferro perché ci servirà la griglia del piano di taglio perché io guardate cosa prendiamo per prima questa guardate che bella che è questa questo tessuto ma io ve lo faccio vedere in grande fondo grigio è il primo che è il primo che ho trovato eh per non farvi perdere un mucchio di tempo guardate che meraviglia che è questo tessuto bello bellissimo moderno coloratissimo allegro vivace allora perché ci serve la griglia perché io devo fare dei bordini a questi charm 5 pollici per 5 pollici che diventeranno le taschine del nostro calendario dell'avvento guardate sul rovescio vado a metterlo proprio qui in questa posizione vi devo spostare in su perché devo arrivarci anch'io a guardare guardate vado a piegare in giù di 1 e vado a piegare in giù di 2 in questo modo io faccio per tutti i nostri pezzetti di tessuto questa piega e ho una regolarità sull'orlo che devo fare certo che è un pezzettino corto poi andiamo a stirarlo eh li faccio per tutti è un pezzettino corto questo quindi effettivamente è così facile vedete con due mani io vado a piegare così spingo un po' e vedete che la piega abbastanza rimane tiro anche l'altro orlino e la piega rimane non faccio nessuno sforzo metto gli spili poi andrò a stirare certo che quando dobbiamo fare un orlo molto più lungo insomma questo metodo non è così tanto tantissimo comodo insomma ci sono altri metodi per fare questo questo lavoro però sapete che certe volte abbiamo bisogno la velocità intanto leggo eh se c'è qualcosa aspetta marilena che adesso vado a leggere sul computer eh abbiamo bisogno un po' di velocità un po' di praticità ed effettivamente diciamo che non stiamo facendo patchwork quindi la precisione non è così indispensabile in un lavoro di questo genere non vedo allora non vedo Marilena prova a uscire e rientrare io non ce l'ho come faccio che cosa non hai Marilena allora ascolta Marilena prova a entrare e uscire dalla diretta rientra poi eh mi raccomando farà furba eh e prova a rientrare e riuscire perché secondo me il solito nostro ehm inquadratura che probabilmente vedi qualche altra cosa che 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 ti ti fa ehm presumere che io non sia in inquadratura ma invece vi assicuro che dal mio computer vedo beh cioè vedo anche il filo vedo anche tutto quello che non dovrei vedere allora siamo così se è quello che che mi dicevi eh ho fatto adesso sì ma ma voi mi ma voi vi immaginate che cosa dobbiamo inventarci noi vabbè allora ho fatto quattro pieghe perché perché ehm io oggi in diretta farò quattro taschine adesso vedo il filo trasparente l'ho richiesto su whatsapp ah sì lo so Antonella ma lo sai che io vado eh avevo 45 messaggi in in arretrato quindi mano a mano poco per volta riesco anche a rispondere a tutte ho dei messaggi dell'Antonella che non sono che non ho letto infatti proprio la figura dell'Antipatica allora cosa vi avevo detto andiamo ad appiattire questa cucitura vedete semplicemente non tolgo gli spigli eh perché io devo solo fare questo lavoro così la Elena mi dice non ha il filo trasparente la Marilena non ha il filo trasparente beh poi ci sentiamo allora guardate vedete io piego mi sono fatta l'orlino adesso è ben sistemato quindi adesso andiamo a cucire questa taschina ecco perché ho usato il filo trasparente userò il filo trasparente perché io andrò a fare la cucitura qui ma non avevo voglia di rovinare queste non è che con la cucitura si rovina però non avevo voglia di andare a fare queste queste per esempio col filo bianco qui non mi piaceva più e ho usato il filo trasparente quindi vi giro sto facendo i passettini vi giro così vi metto qui e andremo a cucire allora dal momento che vi ho fatto prendere quelle misure e adesso vi faccio vedere dal momento che siamo sicurissime se abbiamo seguito questo procedimento che guardate vedete che qui è esattamente a filo della piega quindi in qualsiasi posizione noi andiamo a fare la cucitura faremo l'orlo quindi non avremo nessun tipo di sfilacciamento io col filo trasparente davanti quindi sulla parte che noi vediamo mi siedo nata stanca andremo a fare la cucitura dietro non ho cambiato il filo ho provato riesco bene quindi sulla bobina sotto quindi il dietro del lavoro continuerò ad utilizzare il mio filo normale di cotone e vedete che io devo andare piano 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 e fare la mia cucitura perché vi dico devo andare piano piano perché questo filo fa un po' l'effetto elastico quindi devo comunque andare lenta e al limite mettete anche il punto un po' più lungo del solito però effettivamente è talmente comodo e insomma dovete solo andare un po' più piano naturalmente le cuciture successive poi dobbiamo farle con il filo normale saranno tutte cuciture interne quelle che facciamo noi di solito le sto cucendo tutte quattro vi ripeto dalla parte dritta a distanza di un quarto di pollice adesso vi faccio l'ultima e vi faccio vedere vi faccio l'ultima taschina e vi faccio vedere che cosa cambia siamo sicurissime aspettate vi ho messo in inquadratura poi vi ho lasciato lì non so neanche se mi vedete allora guardate aspettate che qui vedete comunque io apro ho comunque una bella cucitura dove l'orlino c'è perché non faccio esclusivamente una cucitura un orlino solo così perché nella taschina ci andranno magari uno due tre bigliettini a seconda del numero dei componenti della famiglia a seconda della caccia al tesoro di chi parteciperà a questa caccia al tesoro quindi metti il bigliettino togli metti togli va a finire che questo orlino si sfilaccia in più quello che noi faremo oggi potrà anche essere trasforma però non mi piace mi arriccio al lavoro metti il punto un po più lungo prova a giocare un po sulla tensione logicamente il filo trasparente non si usa come filo da cucitura si usa magari per adesso ci guardiamo un po si usa per fare queste cuciture lo so adesso stavate guardando lo soffitto si usa per fare queste cuciture che devono sembrare nascoste ma non è una cucitura di un quilt si usa per applicare qualche disegno si usa per il trapunto io l'ho usato per il trapunto non è un filo da cucitura quindi ci serve comunque questo bordino che è ben fissato che deve essere ben rifinito le taschine così come le vedete voi ho cercato di farle grandi abbastanza per far vedere bene tutte tutte queste bellissime stoffe non si possono usare così quindi tutte insieme anche se scusate tutte uguali anche se a questo punto bisogna dare un momentino più di precisione quindi dovete fare un po più le cose con calma oppure e adesso vi faccio vedere andiamo e vi giro rifinite un po allora vado piano 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 sono di corsa ti guarderò più tardi intanto ti auguro buon lavoro la stefania buon lavoro anche a te cioè sono rimasta un po così buono dicevo ma buon lavoro buon lavoro se stai andando al lavoro allora che cosa mi scrive l'antonietta infatti l'ho usato per l'applicazione non sono rimasta per niente contenta gioca sulla tensione della macchina da cucire allora uno lo lasciamo così quest anzi sì questi due li lasciamo così perché tanto sono i due opposti questo lo taglio di poco allora se noi a lavoro finito e 4 questo qui lo taglio a tre e mezzo quindi guardate vedete aspettate che mi si è mosso tutto vado a togliere questa striscia questa la buttiamo dai poi questo vado a togliere un po di più un po di meno abbiamo fatto tre e mezzo vado a togliere tre e un quarto quindi vado a fissare vedete sul tre e un quarto e tolgo un po di più queste sono le nostre taschine dove vanno le taschine guardate vanno su questo colore verde ornella ciao a tutte con il tulipano oggi il tulipano aiuto allora è bello quando mi mandate i fiori perché oggi altro che fiori allora vedete che io faccio in questo modo perché questi due devono simboleggiare il nostro pino il nostro albero di natale allora diritto contro diritto se volete se vi sentite più sicure fissate con uno spillo questa parte e fissate con lo spillo una volta che lo mettete diritto contro diritto anche questa parte semplicemente se no fate questo lavoro davanti alla macchina da cucire in modo che poi non muovete più niente questa è una cucitura in verticale intanto è arrivata anche una signora che si chiama Cinzia con un mazzo mi piace tantissimo un mazzolino ciao a tutte benvenute io l'ho chiesto prima e poi non vi ho dato retta abbiate pazienza scusate ma c'è qualche signora nuova? intanto che cosa? ah ecco è arrivato il momento di cambiare il filo non ridete non ridete fatine non ridete mi piacere ma facciamo tutte le cose alla luce del sole dai va bene relax sono già agitata occhiali ma voi non mi vedrete con sugli occhiali cioè anche con gli occhiali vedo a mala pena l'ago non ridete wow questo veramente è il bello della diretta è questa cosa che in diretta speriamo vada tutto ok speriamo di aver fatto l'infilatura giusta ma direi che ci siamo no scusate ho parlato troppo forte devo solo togliere questo perché si incastra un po' e sapete che cosa succede? che questa macchina è da pulire come sempre come tutte le volte questa macchina è un po' da pulire però sono stata brava aspettate che facciamo questa cucitura prima di esultare sono stata brava ho infilato la macchina voi non avete visto che ho messo gli occhiali e funziona brava Lara adesso proviamo a non spostarvi 150.000 volte perché guardate questo yeah ben fatto perché perché taglio misure diverse perché se io vado a fare la mia taschina qui dal momento che è una striscia orizzontale qui voglio che ci sia la massima precisione perché se no si vede che non siamo brave si vede che abbiamo dei difetti nel nostro lavoro quando noi accentuiamo il difetto sono cavoli di chi guarda non cavoli nostri perché noi abbiamo accentuato il difetto o comunque il cambiamento o comunque la diversità vado a fare la stessa cosa guardate vi dimostro che anche senza mettere troppi spilli si può quindi diritto contro diritto vado a fare vado a mettere l'altra taschina ci ho pensato volevo numerare le varie taschine ma soprattutto se si tratta di bimbi a volte non vogliono essere rinchiusi dentro regole ne abbiamo già tante e quindi cuci a 0,6 si a una distanza di un quarto di pollice si 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 allora dicevo i bambini spesso sono vanno un po' controcorrente no vogliono andare contro le regole quindi andare a disegnare o comunque a scrivere o comunque ad applicare il numero delle caselline quindi primo dicembre secondo 2 dicembre 3 dicembre così via mi sembrava una forzatura in più dove avrei potuto scrivere essenzialmente qui sulle nostre stoffine colorate e quindi avrei un po' rovinato questa questa bellezza di queste stoffe quindi libertà quindi se non volete avere il bigliettino se non volete avere il numero non si non serve l'importante è uno al giorno mi raccomando non più di uno al giorno neanche se ci sono Francesca ti rispondo se resisti un secondo adesso finalmente vi faccio vedere cosa facciamo quindi che siano cioccolatini carame caramelle caramelle fatine sulle storie di instagram avevo chiesto vi ricordate ancora sopra il mio cesto che dicevo lo mettiamo per i cioccolatini per le caramelle e io ho scritto secondo voi che cosa vorrei ricevere con che cosa vorrei riceverlo pieno strabordante questo cesto che è grosso così ho scritto fili colorati gioielli sì pieno di gioielli caramelle o cioccolatine caramelle io sono una da caramelle ma amanciate al giorno caramelle allora non mi ricordo più che cosa stavo dicendo quindi se noi ci mettiamo dentro i cioccolatini ci stanno uno o due cioccolatini ci stanno cose grosse no assolutamente uno al giorno quindi una casella al giorno saranno 24 caselle oppure un biglietto e quindi se siete così se volete dare una regola al vostro calendario dell'avvento ogni biglietto avrà il nome del giorno in cui dovrà essere aperto che poi voglio dire saprete ben giustarvi voi no però vabbè allora Cinzia sei Aurora che piacere rivederti benvenute a tutte le signore nuove allora questa signora che si chiama Cinzia è una signora nuova benvenuta intanto chiacchiera di qui che chiacchiera di là io sono andata avanti a mettere un adesso dovrei spostarvi lì ho un po' di vergogna però vabbè sono andata avanti a mettere questa bandina bianca allora se prima Anna benvenuta se prima vi avevo detto buon pomeriggio ornella che questo simboleggia il nostro pino gli abeti l'albero di natale così vedete che io non preparo niente non c'è niente di pronto nelle mie dirette adesso vi giro vediamo che cosa riuscirete a vedere aspettate che sistemo proprio un po' cioè nascondiamo il possibile siete pronte? vi giro cerco di mettervi un po' dall'alto e vi faccio vedere che cosa sarà il nostro calendario dell'avvento vi ho girato senza nemmeno dirvi occhio che vi giro sarà un albero di natale con pacchettino che avrà lo spazio per mettere il nostro biglietto questo è il tronco non avevo voglia di farlo marrone è un albero di natale moderno questo non c'entra niente quindi questo è il pacchettino 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 sono 23 caselle ma non ci arrivo aspettate che devo spostare un po' di cose ma qui nella nostra stella ce n'è un'altra di casella questa qui la lasciamo il 24 dicembre non vedo l'ora quindi mi piace tantissimo voglio il charm i colori voglio tutto va bene uno in meno quindi io l'ho fatto perché effettivamente non potevamo fare una diretta facendo tutte queste taschine avete visto come ne abbiamo fatta una diritto contro diritto poi vediamo in base a come finiamo vediamo se se ve lo presento tutto se ve lo presento tipo un quarto d'ora dopo la diretta la Jessica ride perché tanto sa già dove andrà questo calendario dell'avvento ma i bigliettini te li fai tutti te allora quindi andremo ad unire questi due adesso andremo a fare questo questo pacchettino con uno dei charm diviso in due vedete che questo è cinque pollici per cinque pollici diviso in due adesso vi giro così non guardate troppo in giro per terra tutti i ritagli e non siamo qui dopo facciamo tutto il possibile per appenderlo allora stessa cosa che abbiamo fatto prima questo è il nostro adesso sono agitata non so perché questo è il nostro nastro il nostro nastro del pacchettino anche questo senza particolari misure io vado a fare questo lavoro bello diverso dagli altri bene sono contenta questo lo facciamo così giriamo la stessa cosa quindi andiamo giù di mezzo pollice aiuto aspettate e andiamo ah mi sono buco cioè tutte le volte mi brucio mi buco e andiamo giù di mezzo pollice Lara aspetta 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 che qui c'è un messaggio lungo ma da vicino non lo vedo intanto guardatevi i pini e questo allora Lara sbaglio hai cominciato il kit che a me è già mandato al calendario dell'avvento no allora Anna non si vede esci e mi raccomando rientra in questa diretta che probabilmente ti sistema tutto l'inquadratura non sono io ma siete voi è sotto sopra che cosa è sotto sopra? mi ho messo sotto sopra no bellissime fantasie anche il progetto è molto simpatico allora Marilena no allora questo è il calendario dell'avvento classico quindi è il calendario dell'avvento che serve per bambini per contare i giorni per avvicinarsi al Natale quindi io per esempio non lo sanno ancora ma a casa mia farò un calendario dell'avvento per tutti è così per contare i giorni guardate che fenomeno che sono una cosa una scemenza è però un cioccolatino al giorno per 24 giorni e logicamente chi ha i bambini avrà un regalino al giorno per 24 giorni il nostro invece il nostro calendario dell'avvento e se c'è qualche signora che adesso da questa domanda della Marilena è incuriosita mi manda un messaggio io spiego tutto il nostro calendario dell'avvento sarà un un quilt che noi cuciremo andiamo a stirare intanto che noi cuciremo a partire dal primo dicembre con 12 dirette in tutto il mese di dicembre quindi questo non ce l'hai Marilena l'altro sì ok allora voi comunque se siete interessate mi mandate un messaggio su whatsapp io vi tengo da parte e vi dico tutto tutto quello che serve perché perché il calendario dell'avvento così come l'avete visto voi adesso dico una stupidata 33 pollici per 45 e mezzo mi sembra con un piccolissimo bordino anche per i grandi da noi si usa bellissimo bello bellissimo bellissimo però io l'avevo fatto possiamo anche fare un calendario dell'avvento ragazze risparmiatevi risparmiatemi il cambio filo lo faccio faccio così devo solamente rifare una cucitura per fermare questi questi bordini allora mi ricordo cosa stavo dicendo cosa stavo dicendo fatine ah sì che io una volta avevo fatto il calendario dell'avvento non era così ma aveva delle delle caselline che si aprivano con dei nastrini e tutto quanto questa misura logicamente è piccola va appesa ma se voi volete possiamo farle diventare più grande questo albero di natale sempre con le taschine che appoggiamo su una sedia sul divano fino a dicembre e poi da dicembre in poi diventa un trapuntino da divano quindi se volete mi dite la misura finale facciamo anche i calcoli per la misura finale di questo trapuntino il pacchetto che andrà a sinistra del nostro alberello sarà rosso guardate noi abbiamo bisogno il una griglia quindi il nastro che ci serve per fare un incastro dove mettere il bigliettino del nostro calendario dell'avvento che potrebbe essere tipo per i bambini vai a cercare sotto il tuo letto vai a cercare sotto il cuscino della mamma tipo vai a cercare nell'armadio dei bicchieri oppure può anche essere oggi devo pulire la mia camera molto più pratica oggi devo finire i compiti delle vacanze tipo no e poi però c'è il dolcetto in regalo se fanno i bravi ritorno all'epoca della scuola allora qui ci va vedete che qui comunque noi lo legheremo solo ai lati siete un po' empataccate ma adesso vi ho alzato allora noi lo legheremo solo ai lati perché adesso andremo a fare la struttura che va attorno all'albero di Natale e quindi vicino al tronco e ci serve questa cosa qui per appoggiare il nostro bigliettino per appoggiare qualcosa ma molto facile nel senso che sul file troverete tutte le misure e adesso ve le faccio vedere guardate diritto contro diritto fantastico bene tutte le misure giuste deve essere di 5 pollici Lara se il charme è di 5 pollici perché hai fatto una misura diversa è di 5 pollici sveglia allora speriamo siano giuste le altre perché allora quindi questa è la parte superiore vedete che qui un po' più piano però veramente sono due pezzi di stoffa sono andata a bloccare il primo nastrino quindi il nastro proprio per far sul pacchetto aspettate che qui mi si incastra un po' poi la parte sotto chissà se ho fatto la misura giusta si brava quindi questo è il sotto del nostro pacchetto e anche qui con questa cucitura che mi serve effettivamente per arrivare a misura vado a fissare il mio nastrino dopo vi racconto una cosa circa il retro di questo pacchettino di questo pannello vado ad aprire aspettate questo in alto ok quindi questi pini li ho messi giusti stiro eh stiro dal pacchetto verso l'alto e dal pacchetto verso il basso questo ehm così questa ma che bella idea ogni volta mi stravolge le idee Luisa benvenuta allora aspettate che io mi sono persa perché aspettate che cosa mi manca ehm no ci sono ci sono perché questo è il sotto ok questo è una parte esterna stavo dicendo questo questa cosa di fare il pacchettino fatto così potrebbe anche essere per esempio ehm un'idea da utilizzare in una tovaglietta magari nella tovaglietta per la mattina del Natale e qui il porta tovagliolo o il porta posate oppure anche alla mattina di Natale magari per noi adulti ah non hai il bigliettino con scritto ah non hai trovato niente sotto l'albero e allora vai nell'armadio delle calze tipo perché io poi alla fine ste scemenze le faccio quindi ho fissato ho stirato malissimo però ho fissato questa parte sulla destra e questo sempre del nostro colore di fondo sulla sinistra eccoci qua piano dove c'è lo spillo non ho controllato ma cercate comunque di metterli eh proporzionati cioè nel senso ce la faccio eh perpendicolare insomma a meno che è una cosa che mi è venuta in mente adesso non so se in questo alberello mi piace però per esempio su una tovaglietta potreste anche fare una fascetta così e l'altra fascetta così vi giro eh aspettate che vado a cercare guardate per il pacco che io dal vivo non sono mai riuscito a farlo però con la chiusura in questo modo tutto chic non so capace ma tanto lo sapete oramai lo sanno anche i muri io i miei pacchi di natale li faccio anche con la carta del giornale e adesso la Jess scrive sì è vero è vero sì branata allora eccoci qua questo è il nostro è il nostro pacchetto che aspettate che ho già sbagliato aspettate che va messo in questa posizione quindi diritto contro diritto questo è il tronco e questo è la parte con il nostro pacchettino finale la stella è niente niente meno che una stella normale sul file vi metto tutte le istruzioni ci sono sono andata stortissima ci sono le quattro anatre in volo e il centro della stella è aspettate che vi faccio vedere bene 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 è il centro della stella anche lui con la cioè con la taschina notate qualcosa in questa c'eravate povere cioè ho inquadrato il muro notate qualcosa nella taschina della stella imbambita e questo invece è il fondo dell'albero vedete che ho messo un po' i pacchi un po' storti se volete potete anche arricchirli con un nastrino noi vabbè quello che trovati ci sono abbiamo avanzato tante di queste striscioline che che ne so li cucite così guardate anche solo guardate aspettate cioè non non l'ho messe proprio bene però guardate anche solo messe così che fanno un po' di movimento anche visto che quest'alberello ha anche tante taschine potremo anche impreziosirlo con tanti pezzettini tra l'altro guardate il charm è tutto seghettato è carino anche lui momento di smarrimento aspettate allora questa è la nostra base che è così questo è così avete voglia di guardarmi in queste due tre cuciture che facciamo cioè guardarmi non è che adesso mi guardate tutto adesso vi giro sulla macchina da cucire ma volevo fissare questa cucitura avete voglia di guardare 30 secondi che i due tessuti esatto miranda i due tessuti uguali sono fatti dopo vi faccio vedere bene per le punte della stella vi ricordate le anatre in volo le anatre in volo partiamo da rettangoli sul quali andiamo a mettere questi quadrati che dal momento che il charm è di 5 pollici li dividiamo in 4 parti quindi diventano 4 quadrati da 2 pollici e mezzo per 2 pollici e mezzo questi quadrati con la diagonale segnata sul rovescio e di conseguenza abbiamo belle che preparato le nostre anatre in volo ho cucito storto ma storto meno male che vi dico sempre quando cucito andate a vedere che la stoffa sotto non sia scappata e infatti è scappata quando abbiamo cucito le taschine abbiamo cucito solo i lati delle taschine perché effettivamente il sopra e il sotto cioè il sopra l'abbiamo già preparato aspettate che vedo se non è il caso e beh certo vabbè ricordiamoci di farlo dopo perché guarda no ma cuci bene cioè il fenomeno allora a parte qui il sotto praticamente vedete che con la mia cucitura è bloccato la taschina è bloccata cosa ho fatto qui perché ho cucito male perché cucendo questa stoffa è un po' scappata e io chiacchierando parlando non ho controllato intanto facciamo così non ho controllato di vedere se quella stoffa era rimasta al suo posto oppure se era scappata via vi ricordate quando vi dico ogni 5-10 centimetri andate a controllare adesso controllo ogni 2 ecco il motivo è proprio per quello e soprattutto sì andate a controllare anche quando quando si tratta di mettere a posto queste queste strisce che ci siano le le taschine a testa in su perché se no non sono più taschine è rovesciata è vero Magda è rovesciata e io non ci avevo più voglia di toglierla dite che devo toglierla dite che non va bene io direi che va bene lo stesso allora qui ci siamo quando andate a prima di andare a mettere i vari pezzetti andate a rifilare un po' il bordo quindi andate a risistemare naturalmente si stirano ancora una cucitura resistete poi vi racconto una cosa e mezza del retro magari facciamo anche qualche pezzetto assieme in modo che vi do un'altra indicazione sulla su come fare il retro cioè su come sistemare il retro perché poi questo calendario dell'avvento innanzitutto dovrà essere imbottito e trapuntato perché se no veramente perde un po' di valore no però appeso appeso come e allora adesso vi faccio vedere ci siamo quasi e poi le mie fattine segretarie mi diranno alle tre e mezza finita la diretta mi raccomando disfa quella cosa in fondo e risistemala perché c'è il buco quindi vedete che poi alla fine è una cosa facilissima e anche velocissima quindi le signore che mi dicono eh ma manca poco ce la si fa anche in un pomeriggio non c'è praticamente niente da tagliare perché le taschine sono già tutte fatte si lavora a catena perché si fanno 24 taschine anzi 22 taschine nello stesso modo i pacchettini sono a posto così e quindi è facile è facile scusa eh scusate 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 la Sara mi dice molto bello no non mi ha scritto molto bello mi ha scritto solo bello il calendario mi sono cioè le comiche mi sono un po' incastrata abbiate pazienza ma devo togliere tutti gli spilli perché se no me li tiro dietro ma li mettiamo qui stiro in frettissima così appendiamo questo calendario dell'avvento poi vi prometto che lo sistemo allora aspettate che controllo bene come facciamo le misure come facciamo le stirature dall'alto verso il basso dall'alto verso il basso ok perché praticamente la nostra taschina è un po' più tra virgolette difficile da piegare e quindi facciamo prima a far scivolare giù il la piega adesso ve lo appendo è così almeno poi andiamo a ragionare su come mettere una struttura per il proprio per appendere il nostro calendario dell'avvento però intanto perché anche io sapete quando faccio le dirette la maggior parte delle volte faccio il prototipo e invece questo l'ho finito con voi finito benissimo con voi e quindi fate attenzione quando andate a stirare tamponate perché non dovete andare a a togliere a a stropicciare la le taschine allora dai va venite con me siete pronte la joelle è arrivata guardate la joelle è arrivata al momento giustissimo allora passo di qua mi sono passata proprio davanti così appendiamo il nostro calendario dell'avvento e poi ragioniamo assieme su come fare la la struttura per appenderlo non so se siete in inquadratura non so dove siete però con un pacchetto di charm un po' di bianco e un po' di verde e un pezzettino di grigio ma veramente pochissimo questo è il nostro albero dell'avvento vabbè no ma perché Lara sei proprio brava cuci bene cioè proprio il tuo lavoro eccolo il nostro calendario dell'avvento che con il aspettate è così con il sotto dei dei nostri pacchi di natale si confonde un po' però è lui quindi finisce qui bordino piccolo non andrei a esagerare con il bordo deve essere un prolungamento del binding di quello che sarà il binding ma colorato così ma veramente una fettina non e non ci siete in inquadratura aspettate che vi giro appena 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 chi è che mi manda tutti questi 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 bambini unicorni che chi è quello bestiolino lì eccolo qui questo è ma proprio pochissimo soprattutto pochissimo se questa è una cosa da appendere certo che se seguite il mio suggerimento e potrebbe diventare un trapuntino da divano possiamo andare avanti con i bordi con tanti bordi in ogni caso adesso torno con la sedia in ogni caso non eravate voi c'è qualcuno che mi scrive su messenger delle bestioline con gli occhi a cuore con gli occhi a cuore allora in ogni caso se questa cosa qui vuole diventare un trapuntino da divano il calendario dell'avvento dubito ma magari no che voi abbiate una parete grande come un trapuntino da divano allora lì se voi ce l'avete potete anche non utilizzare i quadri per questo mese e quindi coprire una vostra parete ma effettivamente dovete chiedere l'aiuto dei vostri mariti dei vostri figli e magari siete fan del bricolage e siete molto più brave di me per farvi una struttura con un bastone che tenga questo questo trapuntino questo quilt se invece lo fate piccolino così effettivamente non serve chissà quale cosa importante ma con gli avanzi allora abbiamo detto che ce ne sono 42 ne usiamo 24 25 26 quanti ne rimangono io non sono capace farlo a mente però con tutti questi altri che rimangono che effettivamente sono un bel po' ma possono essere anche un avanzo del bordo oppure un avanzo del retro quindi effettivamente ce n'è un po' io sono andata a fare questo orlino farò lo stesso orlino così e questa e questa così direi che mi piace anche ci sono varie alternative mi piace lasciarlo così quindi tutto seghettato perché è comunque anche il bello del del charm quindi due tre quattro segmentini così cuciti appunto nascosto sul retro e una volta che il nostro quilt è finito quindi è trapuntato potete anche cucirlo solo sul retro avendo l'accortezza di mettere un tessuto dietro una fliselina comunque un tessuto che che tenga che che rinforzi un po' il nostro retro ma assolutamente se siete bravissime nel trapunto e se siete sicurissime che il dietro sarà poi dritto perché se no voi lo sistemate già così poi il dietro fa così e vi è fuori un pasticcio perché queste cose che io direi più di due di sicuro tre quattro cinque tanti pezzetti fatti così aspettate uno vicino non sono capace aspettate ci sono uno vicino all'altro perché poi ci mettiamo dietro il bastone che può essere appeso con una con una catenella con un cordino con uno spago in questo modo se volete una cosa diversa particolare potrebbe anche essere che io prendo tutti quelli che intanto poi vi leggo tutti così e faccio al posto di fare tanti pezzettini faccio la lista quindi cosa comporta la lista che effettivamente il nostro quilt o comunque questa cosa appesa gli rimane un po' più di forma con i pezzettini staccati dobbiamo essere precisissime con la lista effettivamente se poi nel momento di cucirla la mettiamo a posto la squadra e prendiamo come riferimento la squadra effettivamente può essere già comodo utilizzando i charm non è così comodo fare avete presente questo pezzettino ai lati quindi chiuso dentro nel binding e avere proprio l'angolino su cui appoggiare il quilt mi sembra abbastanza grande e il charm troppo piccolo per fare questa struttura volevo dire un'altra cosa che non mi ricordo più era bella come cosa ma non me la ricordo più allora vabbè mi verrà in mente va trapuntato come va trapuntato potremmo mi cadevo dalla se no ma vabbè allora poi vi leggo potremmo andare a fare questo contorno oppure potremmo andare a fare un free motion di stelle tutto intorno qui logicamente andrei a evidenziare questa stella e non mi viene in mente che cosa volevo dirvi era una cosa bella da dirvi non me lo ricordo più eh non me lo ricordo più e non me lo ricordo più sì potreste anche fare sempre con i charm ma in questo caso per esempio questo l'ho messo al contrario perché i pini li metterei interi eh dritti fare le le asole e quindi attaccarle poi al binding e far entrare il bastoncino quello che volete sulle asole a vista e poi lo so che io dico bene sono stata contenta di aver fatto questa diretta e poi mi viene in mente che cosa dovevo dirvi che era una cosa bella secondo voi cosa vi dovevo dire era ti rivedo dopo a domani ciao Ugliana a domani ah perché tu sai già che domani ci vediamo sì domani ci vediamo su instagram intanto stengo il ferro e riuscirà la Lara a dirvi che cosa dovevo dirvi a farsi venire in mente che cosa dovevo dirvi no mi viene il nervoso perché era una cosa carina e lo sapevo che dovevo volevo interrompere il discorso che facevo per dirvi questa cosa non l'ho fatto e allora me lo sono dimenticato binding però allora sul sito mi raccomando e chi lo vuole mi manda subito un messaggio perché non ne ho tanti perché nel frattempo ho fatto l'evento e i pacchettini di charm sono si sono volatilizzati nello stesso modo però possiamo farlo anche con i layer cake ci sarà un po' più di avanzo vi assicuro che in qualche modo riusciremo ad utilizzare anche il pacchetto di layer cake perché praticamente con un pacchetto è come se voi aveste quattro di questi quindi vabbè effettivamente ma tanto so che trovate il modo per utilizzarli e sul sito troverete il kit per fare il top il kit top compreso di retro ho messo un'imbottitura leggera e era qualcosa a proposito dell'imbottitura poteva essere qualcosa ma perché così eh poteva essere qualcosa a proposito dell'imbottitura e quindi trovate non è vero sul sito trovate solo il top però non passate dal sito ma mi scrivete qualche fatina per me non canina per me sei lontanina ma si potrebbe fare tu fai la trapuntatura io faccio la trapuntatura è una cosa abbastanza piccola abbastanza veloce tu lo fai di corsissima me lo mandi di corsissima io te lo faccio di corsissima abbiamo quanti giorni mancano al primo dicembre abbiamo 26 27 giorni ce la si può fare tranquillamente quindi al limite mi dite che volete tra parentesi se vuoi la trapuntatura chi di voi vuole la trapuntatura da me non è necessario che prenda subito imbottitura e retro e binding perché ci penso io quindi non stiamo ad andare avanti e indietro con 1500 tessuti quindi ripeto sul sito trovate il top se non volete il top ma volete vi aggiustate con la trapuntatura e fate voi mi potete chiedere il retro e l'imbottitura e il bind ma ci sta con il retro se questo vuole diventare il trapuntino da divano io vi faccio il disegno di qualche bordo direi di non andare ad azzardare con qualche bordo particolare però magari un bordo con i pinetti io lo farei anche ti devo scrivere su whatsapp o basta dirmelo qui come vuoi te dimmelo pure qui poi però scrivimi su whatsapp adesso perché io sono curiosa sapete le scimmie no vi metto qui e vado ma proprio velocissimamente a guardare due commenti allora vi sposto così sposto la sedia che non sta bene da vedere questo è quello che abbiamo fatto oggi guardate la stella bellissima con le scritte al contrario ma se fosse stato tutto tutto giusto non era una cosa che non avevo fatto io quindi quindi non andava bene e quindi aspettate che io forse ho toccato quello che non dovevo allora e quindi Angela è cattivista devi scucire la tasca della stella ma no facciamo una cosa io lo chiedo alla G perché secondo me allora io potrei dire G sai che io ho poco tempo quindi se lo vuoi perfettissimamente perfetto scuccio la tasca della stella ma non so se poi il primo dicembre ce l'avrai oppure te lo tieni così e va benone così quindi faccio scegliere a lei lo lascio così sicuro allora non si vede l'Anna spero si spero tu abbia sistemato allora non sono andata indietro tanto tantissimo con le con i commenti non trovo tantissimissimissime cose allora sto tornando indietro e sto guardando il messaggio della Marilena ma già ride va bene te lo faccio così come se non avessi detto niente te lo lascio così così almeno c'è qualcosa da ridere no allora questo è il calendario dell'avvento della diretta che si chiama tipo è ora che cominciamo a pensare davvero e cominciamo a prepararci davvero cioè io scrivo le dirette poi non mi ricordo neanche più come si intitolano il nostro secondo calendario dell'avvento è un'altra cosa è un quilt tra l'altro in questi giorni sto cominciando a pensare come proporvi altre dirette perché non saranno dodici quindi sarà un quilt che voi riceverete a casa in questo mese perché il primo dicembre si parte riceverete dodici anzi no 11 pacchettini da aprire in determinati giorni del mese di dicembre faremo un quilt ci sono tre versioni con la Maria Sky con la Warm Winter Wishes e con la collezione Sanctuary della Tree Sister io farò quella lì giusto per farvi capire che spesso un quilt che è tra virgolette destinato al Natale fatto con altri tessuti diventa un quilt per tutto l'anno principianti o no è giusto un modo per giocare assieme per divertirsi assieme nel mese di dicembre è un è un così è un momento tutto nostro le principianti potranno partecipare perché comunque è per quello che vi dico sto preparando un altro modo di spiegarvi le cose anche per le signore che qualche cosa non sanno ancora ma sono comunque dei blocchi facili sono 12 blocchi a gennaio penseremo poi al sash che è già disegnato però dovrete scegliere i colori il kit del corso del non è un corso del nostro calendario del nostro secondo calendario dell'avvento comprende i tessuti per i 12 blocchi adesso ho girato il computer e quindi neanche volendo ma adesso vado giro e ciao patti no mi serve il secondo per mi serve il secondo per il primo dicembre mi serve il secondo calendario dell'avvento perché lei è sincera e sa che c'è già quello dell'anno scorso però anche questo è per voi e ciao a tutte la Silvana mi dice è stata una diretta corta effettivamente non avevo niente di così importante da farvi vedere ma ho voluto veramente fare una cosa il più semplice possibile perché deve essere semplice per voi ma soprattutto deve essere molto veloce per voi vi ricordo che avete le prove sulle storie di Instagram che sabato avevo Zoe domenica è stata con noi Zoe io ho iniziato a cucire lunedì pomeriggio è vero che non è finito ma ci manca poco e quindi vi saluto vi mando un bacio tanti tanti baci grandissimi e ci vediamo domani su Instagram per la lezione pronti partenza che è il nostro lavoro così sperando di riuscire questa volta a salvare la diretta metti la foto intera del calendario metto la foto intera del calendario bellissima diretta grazie qui siamo quasi sicure che la diretta viene salvata e potete rivederla tutte le volte che volete se la condividete sul vostro profilo basta che entrate sul vostro profilo e la trovate la patrizia non l'avevo salutata prima la patrizia è piena di cuoricini e faccio così vi giro così e vi saluto non so neanche dove sono e vi saluto così anche lei l'aria è piena di cuoricini tutti pienissimi di cuoricini ho bisogno di spostare questo pallino prima ok termino ciao a tutte buon poveriggio sono un angelo bene ciao una fatina angelo